Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua! Questo è un piccolo annuncio che voglio farvi In poche parole, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno non ci sarò Sarò via per festeggiare l'addio celibato di un mio amico che si sposa Purtroppo non posso dirvi dove, perché sennò se vede questo video non sarebbe carino E quindi tornerò domenica sera ma non penso di essere nello stato per postare video Quindi lunedì sarà tutto un lunedì di ripresa da questo weekendone folle Comunque venerdì sera e sabato mattina prima che parto farò partire un upload di qualche video Così almeno avete qualcosa da guardare Quindi niente, ciao a tutti ragazzi da GeneticDNA